Siamo felicissimi, qui a Radio Bruna Sanremo è venuto a trovarci Mr. Rain. Ciao, come stai? Molto bene Mattia, tu? Sono emozionatissimo, anche un po' teso, giustamente, però ho voglia di salire sul palco. L'anno scorso è stato un anno incredibile, perché la tua canzone è diventata un simbolo, un inno. Quindi pensavamo magari quest'anno ci fosse meno questa emozione, invece quel palco lì è così. Guarda, è il mio secondo Sanremo per la prima volta. Io ero convinto di tornare, conoscendo comunque già tutto quello che mi aspetta in questa lunghissima, ma cortissima settimana. Pensavo di patire meno la tensione e l'emozione, e invece è la stessa cosa, è come rivivere Sanremo esattamente come se fosse la prima volta. Poi con una canzone così importante, che è l'eredità stessa di Supereroi, questa è ancora più veramente difficile da raccontare e cantare sul palco. Infatti, una delle mie paure sarà nel cercare di gestire bene tutta l'emozione che sento dentro, mentre canto, durante la serata. Quindi questa sarà la cosa un pochino più difficile, per me. Abbiamo capito che ci saranno due altalene sul palco, così ci hanno spoilerato durante le prove. Io non ho detto niente, sei stato tu, sei stata tu. Però sarà quindi molto d'effetto. Ma ho letto un'intervista dove tu hai detto rifarò completamente tutto quello che ho fatto l'anno scorso, ma come fai a ricordarti? Lei non mi ricorda neanche cosa ho mangiato ieri. Io mi ricordo purtroppo tutto. Non sono scaramantico, però durante Sanremo lo divento, ma in modo quasi ossessivo. Cioè io l'anno scorso ho rifatto tutto quello che ho fatto la prima serata. Quindi ho mangiato la pasta al pomodoro, dovevo fare delle flessioni in camerino, dovevo salutare le stesse persone. Probabilmente ripercorrerò e rifarò molte cose dell'anno scorso per scaramanzia. Naturalmente. Parliamo della canzone. Quando è nata, come è nata? Raccontaci un po'. Allora, io ti faccio una spiegazione un pochino più ampia. Io sono andato a Sanremo un anno fa con Supereroi per raccontare un periodo veramente cupo che ho vissuto. È difficile. Fino al giorno prima di cantare era una canzone soltanto mia. Dal momento in cui l'ho cantata è diventata una sorta di manifesto tra le persone che ha unito un sacco la gente. E questa gente l'ho ritrovata poi in giro per i concerti. Ho fatto tantissime date. Ho fatto più di 30 concerti, 50 con tutte le promo, eccetera, eccetera. La cosa strana è che al posto di chiedermi la foto, il video, la firma, mi raccontavano... Mi chiedevano di raccontarmi e di incontrarmi per appunto spiegarmi di come Supereroi sia stata d'aiuto ed appoggio in un momento duro come può essere quello di una perdita. È una canzone che forse la scintilla l'ha data questa storia che mi è stata raccontata di questo genitore che ha perso sfortunatamente dei figli. Dopo di quella sono arrivate tantissime storie, centinaia di storie. È una canzone che ci ho messo veramente tre o quattro mesi per scriverla perché non ero mai soddisfatto, non riuscivo mai a raccontare quello che percepivo io quando mi raccontavano queste storie e si aggiungevano sempre più storie. È stato il motivo che mi ha fatto dire, ok, devo tornare a Sanremo per raccontare la storia della gente. Quindi per la prima volta non parlo soltanto di me, ma parlo della gente. Veramente un simbolo, ma immagino anche l'emozione, quello che hai provato mentre stavi scrivendo. Ma a proposito di storie, la serata delle cover, ci sarà lì una storia importante nel senso che insieme ai gemelli diversi canterai Mary. Assolutamente. A parte che è una canzone senza tempo che ha unito più generazioni, la mia in pieno. Io comunque avevo 12 anni quando ero uscita, quindi mi ha preso in pieno. e l'ho scelta soprattutto anche per il messaggio, che purtroppo è ancora troppo attuale. Io sono convinto che con l'arte, quindi con la musica, puoi davvero cercare di cambiare il mondo o comunque parlare di cose che non vengono trattate poi così tanto, come la violenza sulle donne, che è il tema main di Mary. Quindi ci tenevo a dare il segno e dare un piccolo contributo, apportando questa grandissima canzone con i gemelli, con le farfalle olimpiche, quindi sarà una bellissima cosa. Sono emozionatissimo anche per la cover perché mi piace veramente tanto e sono felice di dare anche io il mio piccolo contributo comunque nel parlare di un argomento ancora troppo attuale. Hai proprio ragione, è proprio centrale. Tra l'altro in questo Sanremo sarà veramente evidenziato ancora di più tra canzoni e momenti. Sanremo però è il momento anche di presentare un nuovo progetto e poi annunciare le date del tour. Assolutamente. Allora, il mio nuovo album a distanza di due anni uscirà il primo marzo, stavo ripensando, il primo marzo si chiama Pianeta di Miller. Ho lanciato le prime due date dei live che sono il 26 novembre al Palazzo dello Sport a Roma e il 30 al Forum di Assago. Ovviamente ne usciranno molte altre, quindi vi aspetto tutti quanti. E il Radio Bruno naturalmente sarà in prima fila. Il pubblico non solo di Radio Bruno ma anche di Brescia lo sa, insomma ti aspetta e ti fa sempre per te. Grazie mille, grazie. Grazie mille a Mr. Rain. Ciao a tutti.